Ciao, il mio nome è Federico Giovanni Galbiati e sono rappresentante degli studenti in nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione è un organo di Ateneo che si occupa, tra le altre cose, di valutare la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa. Che cosa significa questo? Significa che lo studente che è eletto in nucleo di valutazione si troverà a lavorare con persone della nostra università, ma anche con professori e personale tecnico-amministrativo che arriva da altri Atenei e tutti insieme si andrà a valutare quella che è la qualità della didattica e della ricerca, soprattutto nei vari corsi di studio e nei numerosi dipartimenti del nostro Ateneo. In questo modo lo studente eletto in nucleo di valutazione ha veramente modo di conoscere dall'interno come funziona l'università e di venire a conoscenza delle principali criticità che sono presenti nei vari corsi di studio, così da essere protagonista del miglioramento del nostro Ateneo. Grazie. Grazie.